Salve a tutti ragazzi e bentornati su cose dell'altro cinema. E proprio di altro cinema si parla, perché questo è un film Netflix, che secondo me è sempre cinema. Cioè, il cinema di Netflix è sempre cinema. Poi ci sono i puristi che invece lo odiano, il cinema in streaming, ma a me comincia a piacere abbastanza. Ad ogni modo, Il Buco, un originale Netflix che in tanti mi avete segnalato, non ho capito se volevate che lo vedessi perché vi è piaciuto tanto o perché volevate vedermi incazzato. Non ho ben capito, ma insomma, mi sono andato a vedere questo Il Buco, anche perché pure Netflix è da due giorni che mi martella. Appena apro Netflix, Il Buco, grosso scritto così, col rosso. L'ho visto poco fa. E devo dire la verità, ragazzi cari, non voglio fare spoiler nella prima parte, però una cosa ve la devo dire. Io sono arrivato a tre quarti del film pensando, minchia, che bomba, che ficata, che meraviglia, che belle idee. E poi è arrivato l'ultimo quarto del film. E ai titoli di coda è volato un vaffanculo. Madonna che vaffanculo che gli ho tirato a sto film. Era tantissimo tempo che non trovavo un film che mi facesse esaltare fino a un certo punto e poi per il finale mi facesse cascare a terra i coglioni. Era tantissimo tempo. Anzi, io non sono proprio il tipo di persona che guarda un film e poi ti fa Eh no, il film è fantastico, il finale è niente. Ma questa è proprio la classica cosa che sento dire, no? E io non l'ho mai capita. E dico, no, il film è bellissimo, però è il finale. A me del finale non me ne frega un cazzo, ragazzi. I finali dei film io non li ricordo nemmeno. Io vi giuro, ho un problema, ho un problema. Io dei film ricordo soltanto delle sequenze intermedie. Ma i finali io me li scordo sempre, in ogni caso. Non so perché c'ho stato... Ma pure i videogame, pure con i videogame. Gioco un gioco, arrivo a finire il gioco, io il finale non me lo ricordo. Non lo so perché. Però nel caso di questo Il Buco, il finale, me lo ricordo, è come. Anche perché Il Buco è di sceneggiatura, secondo me, enorme. Anzi, di logica, sostanzialmente. Quindi preparatevi, perché se siete fatti come me, il film vi piacerà per buona parte e vi esalterà da morire. Arriverete alla fine e tirerete un porcone davanti allo schermo. Ora, arriva la parte spoiler. Va bene? Però, ve lo dovevo dire. Dovevo dirvi che fino a un certo punto mi è piaciuto tanto, perché se no, sembra che io metta in croce i film perché mi stanno sui coglioni. No, mi stava piacendo, porco Giuda. Ah, spoiler. Ah, questo Il Buco, in realtà, un concept, sì, molto simile a The Cube, perché studia i rapporti tra gli esseri umani in condizioni di pressione e di stress enormi. però, in questo caso, all'inizio era ancora più succulento rispetto a The Cube, perché questi sono tutti sconosciuti, non hanno niente l'uno contro l'altro, è lo stress e la tensione e la paura che poi alla fine li porta ad azzannarsi l'un l'altro come un branco di cani. Invece, in questo film, Il Buco, fin dal primo istante c'è una tensione che si taglia con il coltello, perché la situazione è questa. Ci sono delle stanze molto simili alle stanze di The Cube, senza porte, senza finestre, immagino con un sistema di aereazione artificiale, e in queste stanze ci sono due persone, in ognuna di queste stanze. Tutte le stanze hanno un buco nel pavimento e nel soffitto, perché queste stanze sono tutte collegate, io posso guardare nel buco e sbircio nella tua stanza, però è come se fossero tutte incolonnate queste stanze e con questo buco al centro che passa attraverso tutte le stanze, dalla prima in alto fino a quella in fondo. E sono tantissime stanze, ogni stanza ha due persone. Il concept di questo film è che queste persone sono state messe là dentro, alcune volontariamente, altre per punizione, perché magari hanno commesso dei crimini, altri invece si sono iscritti al programma per ottenere dei privilegi. Quindi è in effetti un programma scientifico, un esperimento sociologico, non si sa, non si sa, però stanno là dentro. Il nostro protagonista si sveglia ed è in compagnia di questo tizio, molto molto strano, molto molto schifo, un po' anziano. Il nostro protagonista, che è un pirla, porta da casa il Don Quixote. Sto vecchio si porta invece dietro un coltello taglientissimo. Attraverso tutte queste stanze, dall'alto al basso, ogni giorno scorre un tavolo ricco, ricco, ricco di cibari, è proprio imbandito di cibo, di ogni tipo, dolci, delle cosce di pollo, crostate di formaggio, c'è di tutto su sto cazzo di tavolo. Il punto è che il tavolo parte dal livello 1 in alto e scende, 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 scende giù. Quindi, ognuno, in queste stanze, può disporre del cibo. E chi è al primo livello si trova a una tavola imbandita, piena di leccornie. Chi è al secondo livello mangia gli avanzi del primo piano. Però, voglio dire, c'è ancora da mangiare. Solo che, man mano che si scende, il cibo è sempre meno, è sempre smozicato, è sempre cibo che ha già ammozzicato qualcun altro, toccato con le mani, ci ha sputato sopra la merda, lo schifo, e quindi già dopo il trentesimo livello comincia ad arrivare poco. E poi, figuratevi giù, la cosa grave è che i partecipanti non sanno quanti livelli ci siano. Quindi, vengono sorteggiati per stare in un livello e poi ogni mese c'è la rotazione e cambiano livello. Quindi tu, se c'hai culo, vieni sorteggiato, sei al livello 5 e mangi gli avanzi di 4 persone. Però potrebbe capitarti di essere sorteggiato per il livello 130 e non mangi un cazzo perché non ci arriva niente. Anche perché si sviluppa questa cosa che chi sta sopra si sente sto cazzo e approfitta per il suo mese, no? Approfitta di questa sua posizione e caga in testa, a volte letteralmente, a quelli dei piani di sotto. Questa cosa è bella. È una bellissima metafora sociale, molto manifesta, molto spicciola, se vogliamo, però funziona. Funziona perché innesca dei bei meccanismi narrativi nel film. Ora, se qualcuno viene qua a dirmi no, ma il messaggio è geniale perché ti fa riflettere, ragazzi, è la cosa più banale dell'universo. Veramente è la cosa più banale dell'universo. sembrano le le vignette umoristiche del medioevo, sai, con il politico che mangia nel piatto della plebe, queste cose qui. È proprio gna 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 c'è 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 da centro sociale questa roba. Però il film è figo, l'idea è bella con questo cazzo di tavolo che man mano scende diventa la merda con poco rispetto per chi mangerà dopo, no? Quelli di sotto che invidiano quelli di sopra. È figo. Ed è bello teso proprio per questo motivo. Ovviamente quando il cibo scarseggia che succede? Succede che la gente si comincia a uccidere, si comincia a mangiare i cadaveri, un bordello. Bene. C'è tra l'altro un cortometraggio di Villeneuve che mi ha ricordato molto questa cosa, solo che nel cortometraggio di Villeneuve ci sono tipo questi tizi tutti eleganti, sti ricconi, sti colletti bianchi a tavola, mangiano, 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 mangiano e il pavimento si scassa, cadono al piano di sotto, continuano a buffarsi il pavimento, crollano, e c'è la servitù che gli riempie sti piatti che continua a stargli appresso, a servirli, questi mangiano, 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 alla fine sprofondano, non è nulla. È un cortometraggio, dura poco, è fighissimo, vabbè, è Villeneuve, però mi ha ricordato molto quell'idea. Quando è che il film mi ha veramente preso bene? Mi ha preso bene quando il protagonista insieme a uno dei suoi uno, due, tre, compagni di viaggio, il terzo, perché i primi due schiattano, decide di mandare un messaggio, il messaggio è questo, dobbiamo dimostrare ai piani alti, a chi sta facendo questo esperimento, che noi siamo in grado di razionare il cibo per lasciarlo a chi ne ha più bisogno, ovvero quelli dei livelli in basso. Facendo questo, loro non si rendono nemmeno conto che non sanno quanti livelli ci sono in basso. E quindi che cosa fanno? Salgono su questo tavolo e scendono giù, insieme al tavolo, livello per livello, impedendo ai primi 50 livelli di mangiare, dicendo, oh, voi mangiate tanto, oggi digiunate, facciamo arrivare da mangiare, ai piani di sotto. Ma quando che si scende, questi incontrano un tizio che dice loro, eh, ma così non si capirà nulla, ai piani alti non capiranno che siamo stati solidali gli uni con gli altri, voi dovete mandare un messaggio. E quindi parte la missione, la missione è dobbiamo far arrivare ai piani alti, quindi quando il tavolo tornerà nelle cucine, il piatto con la panna cotta integra. questo significa che noi siamo riusciti a sfamare tutti e siamo riusciti a preservare il cibo nonostante tutto. Quindi è fighissimo perché questi, ok, nei primi livelli c'è la gente che se la prende con loro perché dicono dovete digiunare per oggi, mangiate domani, no? E questi un po' si lamentano, però sono i primi 50 livelli. Quando si arriva ai livelli dove la gente non mangia da giorni perché già dopo il centesimo livello non arriva un cazzo e la gente è pronta a uccidere, no? Il problema è che questa cosa viene fatta in un momento del film in cui tu hai già capito come funziona. Lo hai già capito. Perché sto tavolo scende lentamente lungo tutti i livelli e a una certa ora di notte, di solito, sto tavolo torna su alla velocità della luce. ma proprio come un proiettile, tant'è che lo spostamento d'aria di questo tavolo muove i vestiti di chi sta nelle stanze, cioè proprio come se passasse un tornado. E quindi tu pensi che chi sta giù all'ultimo livello non tenti neanche di salire su perché sto tavolo lo spiaccigerebbe sul soffitto. Quindi per tutto il film io sono stato con la consapevolezza che nessuno ci prova a salire perché sto tavolo scende solo giù. Quando poi il tavolo risale risale a diecimila chilometri orari chiunque morirebbe là sopra ecco perché nessuno tenta di risalire. E invece arrivati a tre quarti di film questi che fanno arrivano all'ultimo livello trovano una bambina le danno da mangiare questa panna cotta perché si inteneriscono e poverina sta da sola all'ultimo livello muore di fame le danno la panna cotta e poi dicono il messaggio per i piani alti non è la panna cotta è la bambina a parte il fatto che non ho capito perché la bambina dovrebbe essere il messaggio che le fanno un'ecografia e vedono che c'è la panna cotta nella panza è la bambina il messaggio dobbiamo riportare la bambina ma prima io avevo paura che si spiaccicasse la panna cotta sul soffitto facendo un viaggio a 3000 km orari ma mo ci metti una bambina come una pizza margherita così incollata al soffitto soprattutto se si è sempre potuta fare questa cosa di tornare su ma perché non l'hanno fatta gli altri c'è questo personaggio questa questa penso sia tipo una cambogiana che sale e scende con questo cazzo di cosa io pensavo che questa cambogiana da sopra scendesse livello per livello no e boh e quindi stai su un livello quando torna il tavolo ci vai giù e scendi ancora no fai questo vai verso il basso e poi mese dopo mese dove sta sta la prendono le cambiano ovviamente il piano ho detto beh quindi lei sicuramente non può risalire perché sto tavolo è troppo veloce però lei da dove la mettono continua a scendere perché dice che cerca suo figlio e quindi davo per scontato che tutte le logiche del film fossero ben bilanciate non si può risalire punto alla fine questi piazzano sta bambina sul tavolo loro stessi nel fare questa cosa nel razionare il cibo nel minacciare tutti i piani perché non tocchino troppo cibo erano intenzionati a tornare su una volta fa ma come ci torni su a 16.000 all'ora con il tavolo io non mi sto lamentando perché questo tavolo non ha un binario non ha uno stantuffo è antigravitazionale questo tavolo va su e giù non ci sono binari non c'è un cazzo non ci sono cavi è magico il tavolo magnetico non lo so non mi sto lamentando di questo perché in un'ottica fantascientifica ci sta quello che non ci sta è che il fulcro del film sia voler arrivare ai piani alti ma nessuno pensa di mettersi sul tavolo ci pensano loro alla fine e ci pensano senza che ci sia un minimo di senso in tutto ciò perché sto tavolo torna su alla velocità della luce un film rovinato rovinato dalla mancanza totale di senso non capisco che senso ci sia nel mandare su una bambina a spiaccicarsi sul soffitto come messaggio per dimostrare che sono stati solidali dal momento che quella bambina ci si poteva mettere da sola sul tavolo vi siete dovuti fare 330 piani scendendo giù nelle profondità dell'inferno per fare una cosa che la ragazzina avrebbe potuto fare in qualsiasi momento anzi qualsiasi abitante di qualsiasi stanza avrebbe potuto fare fin dall'inizio raga la merda per me queste sono quelle prese per il culo totali voi mi potrete dire no signor non hai capito ti stai attaccando un po' troppo alla logica ma qua c'è un messaggio ve l'ho detto raga il messaggio è di una banalità disarmante quello che mi piaceva del film era proprio la messa in scena era proprio il modo in cui questo messaggio veniva rappresentato e niente mi tocca di che il bug è la merda mi tocca che c'è un messaggio